Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di skygrind survival Dopo il fail e aggiungerei assurdo dello scorso episodio Mi sto preparando per tornare lì e fare il culo a tutti Mi sono fatto anche un po' di armatura con il ferro che avevo purtroppo non ne ho tantissimo Posso farmi un elmetto o delle scarpette? Mi sa che l'elmetto da più armatura quindi mi prendo l'elmetto Non so Le torce non me le porto perchè ce ne sono un bordello lì Spada ce l'ho Cibo mi serve un po' di cibo avevo delle carote qui mi prenderò un po' di carote Quasi cuocio delle patate No guarda c'ho anche altre carote qua mi prendo 32 carote allora Mi siamo a posto Torce le ho lì mi servono un po' di blocchi da costruzione in effetti Mi prendo uno stack di questi Eee Si la quest ancora non è cambiata Quindi evidentemente il portale è all'interno Di quella cosa Ora questo ho realizzato che è un countdown 4 3 3 Oh Devo passarci sopra Ecco vabbè insomma ha fatto Prendo qua delle torce E andiamo avanti Ah si può tornare indietro La se si può tornare indietro sul serio Raga io non ho parole Raga io non ho parole Non ho parole perchè ce le ho ma Sono tutte brutte quindi non le dico Ok la si può tornare a casa Potevi anche dirmelo prima Molto gentili Facciamo così così mi ricordo dove cazzo Perfetto Allora proviamo ad andare avanti Qua abbiamo visto delle mob che Sicuramente non è che ci piacevano tantissimo Esatto sono proprio loro Io però voglio comunque Provare a vedere cosa c'è qua dentro Perchè A sto punto non scaverò più A livello base Però sono piuttosto sicuro che ci sia qualcosa qui Ad esempio questo cos'è Ah è un blocco normalissimo Blackstained clay Perfetto Normalissimo blocco di clay Proviamo a vedere Il problema è che questo è un labirinto E là ci vedo un creeper Ci sono anche delle ragnatele Proviamo ad andare per di là Ok Metto anche delle torce perchè mi piacerebbe molto molto Sapere anche tornare a casa Qua c'è uno spawner di Non lo so Aspetta prima uccidiamo questo Spawner di ragni Molto gentilmente io lo leverei Grazie mille Ok prima di andare avanti per di qua Sento degli scheletri Ok non è questo il caso Vediamo di qua Ancora niente Forse Sapete cosa è meglio se Mi crea un segnale più potente Un segnale più sicuro Più Buongiorno signori C'è uno spawner qua dentro? No? E allora vaffanculo Forse è meglio che mi crei Un vero e proprio Un segnale Che è qui che devo venire Una bella i di Cassa ne so Non lo so Una bella i Ok questo è un labirinto Io all'interno di questo labirinto Devo trovare Il portale Bella sfida Ah 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 Cosa sono quei blocchi Là in fondo? Qua c'è Ma questo è tutto un dungeon Sembra un dungeon Tipo delle ctm del trio raga Ok prima di andare per di là Quei blocchi mi ispirano E anche qua ci sono Un po' di cose però che Non vorrei No Per molto certamente questo lo rompo Si ecco beh Non mi piacciono tantissimo i mob che Hanno un brutto aspetto Non la conto di loro Ma fanno male in teoria Ok Non avrei successo semplicemente Il muro Della Ok Era il muro Perfetto Quindi Ma Mi tocca davvero scavare In ogni singola cosa? Ecco sto per fare di nuovo Il fail Del secolo Io comunque gli spawner li rompo tutti perché Vuoi essere al sicuro Qua non c'è niente Io devo ancora trovare il portale Vuol dire che poi devo andare a prendere le perle E metterle per attivare il portale Molto probabilmente Scusate se ho anche il raffreddore ma Buongiorno a tutti Questa non è una zona buona Aspetta Facciamo notare che è una zona buona Devo capire quando Una zona che ho esplorato Una zona che non ho esplorato Questa l'ho Esplorata Qua ci sono tante zone Morite male per favore Grazie Grazie Ecco Il metodo migliore è andare Di postazione in postazione Qua non vedo niente Non verrei fosse in alto sinceramente però Aspetta qua ci sono dei blocchi Devo romperlo Ok Mettiamo una torcia per far capire che ci siamo stati qua Ok Niente Buongiorno Aia C'è l'arco incantato sto cane Mori 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 Grazie mille La ci sono stato La ci sono le ragnatele Non esplodere Grazie Ok Potrebbe volerci più del Del dovuto Sinceramente non so dove potrebbe essere L'importante è L'importante è trovare la strada di casa poi Ok Se non trovo quella sono un po' più tutta Qui qua Ok Qua ci sono delle vines Proviamo ad andare dove ci sono le vines Potrebbe essere tipo un segnale Invece no Non in questo caso C'è uno zombie Problema è che questo non è manco land Ancora Abbiamo visto lo scorso episodio Questa è una pianura Qui è pieno di mob E di spuoni Guarda quanti creeper lì Buongiorno signori Come la va Non dovreste poter esplodere Anche se esplodete Non dovreste far danni E infatti è così E' un vero e proprio labirinto questo E non mi piacciono i labirinti Non so se qualcuno l'ha mai capito Diciamo che io i labirinti non ci andiamo molto al genio Buongiorno Protettore Ho detto vista ceppa E qua finisce addirittura Molto bene Molto bene raga Andiamo qua Ok Non c'è assolutamente niente La cosa positiva è che sono arrivato alla fine Del dungeon da questa parte Quindi a parte la voce nasale che ho Dovuto al raffreddore e a questo creeper Che madonna mi spaventa Molto probabilmente Da queste parti Oh merda Ma quanto cazzo continua No 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 Raga qua ci vuole un mega taglio Perchè devo assolutamente trovarlo Fai mangiare anche le carote Devo fare un taglio assurdo finchè non lo trovo Spero di trovare Ho sbagliato blocco Oddio Io mi sono venuto qua con uno stack Vuoi dirmi che ho usato più di 30 Rome solo per identificare le cose già messe E' un po' problemino lo sai Un po' un problemino Si Andiamo per di qua Niente Eh 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 Il protettore di sta ceppa non mi sparare Eh quanti cazzo siete Ok Questa è la c Non è vero Aspettiamo questo è un segnale Raga A tra poco E per tra poco intendo a tra tanto Perchè mi sono perso Eh questa avevo già vista Visto? Visto? Succede questo? Cazzo Ragazzi penso di averlo trovato Mi sono fatto tutta sta riga qua Mi sono fatto in fondo E ho trovato questo blocco qui Non l'ho piazzato io Qui sono abbastanza sicuro Era un sever fish Era un sever fish E per forza qui Merda non è qui Che palle Non puoi farmi di ste cose se poi non è vero Che palle Dai su Pensavo fosse Oh oh un altro No mi sembra qua Che palle Che palle Non puoi dudermi così Ah va avanti Vabbè Ci diamo questo sever fish Proviamo a vedere qua perchè Davvero sono andato dappertutto Ma che cazzo vuoi? Dove cazzo sei uscito? Si trovato cosa sei tu? Muori Ehm C'è qualcuno qua? Non c'è nessuno ho trovato il portale raga Ah dovevo passare attraverso qui Perfetto Raga ho terminato La quest numero 16 No 17 E la quest finale è di uccidere l'ender dragon Beh abbiamo un piccolo problema di fondo io non c'ho l'arco qua Ok Sapete cosa in realtà anche tutte quelle l'hava non è che mi spiriti tantissimo a dire il vero eh Comunque Comunque Devo andarmi a preparare Bisogna di una armatura completa Magari incantata La vedo dura L'ender dragon Anche se Teoricamente era più difficile il wither Solo che il wither l'emirato alla grande Comunque Per questo video è tutto Ora sarà un problema tornare a casa E ricordarmi Dov'è sto posto Facciamo tipo Una super Striscia così Una super striscia così In qualche modo Si Il problema è che non ricordo dove sono venuto Quindi Non so ma con che parte del dungeon sono Comunque Vi lascio tantissimo per la visione di questo video Ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo episodio Di iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto E niente Ciao a tutti a tutti Nel prossimo episodio Ci prepariamo per il drago